Ciao a tutti, questa qua è la seconda parte del video vlog Allora, adesso sono le 5 Quindi sono bene 8 ore che siamo in giro per Luino E tipo abbiamo camminato un sacco Prima siamo andati in un negozio di cinesi Che però non abbiamo trovato niente di che Poi siamo andati all'OBS Esatto E adesso vi faccio vedere cosa abbiamo comprato Abbiamo comprato poca roba Adesso siamo qua in un prato Tipo siamo sedute Qua è mezza la strada Sì, qua c'è la strada praticamente Qua c'è un parco E noi siamo in un prato Ok, allora Vi facciamo vedere cosa abbiamo comprato da OBS Non abbiamo trovato molto Io soprattutto stavo cercando dei leggings neri Semplici ma non li ho trovati Allora, abbiamo prima questo che è il mio Questo è il suo della Wet n White Ah, e poi anche queste abbiamo preso Queste Questo qua che è molto bello è suo Sì, poi sono dei brillantini È per la faccia e per... Il corpo Faccia, corpo e occhi Poi guardate queste qua sono delle extension molto finte Che ha preso lei Che ha preso lei Però è bello questo colore Io vorrei avere i capelli così Belle, belle Fai vedere le altre roba Allora, questo ne mettiamo qua Quello è suo Poi abbiamo preso questo Che è di Elisa Questo è mio E voi non vedrete il colore Tipo arancionissimo Della Shaka È bellissimo Perché essendo bionda Pensavo che l'arancione mi stasse bene Stesse stasse Non so come si usa il verbo E pensavo che mi stasse bene un colore Tipo arancione Almeno OBS Dovrebbe starmi bene Mettile qua le cose Perché il blush rosa Non mi penso che mi stia bene Ma poi sono lunghissimo Cioè Sì, sono enormi Con gli extension Ma io non penso Vabbè, questo qua della Shaka Che è tipo bellantinoso E voi non lo vedete dal video Però è arancionissimo Ok, fai vedere altre roba C'è della gente Non mi interessa Cioè Poi vabbè Alla fine Abbiamo preso questo Quello è suo Cioè, questo è suo Questo qua Che è sbalzato in camera Il numero 20 Numero 20 Get to look Che è quello che c'ho addosso Sì, che è troppo bello Sì, è tipo rosa Barbie Sì, infatti è rosa Barbie Ma non si vede benissimo Sì, qua Cioè No, si vede male Però è bellissimo questo colore È proprio Anche Aspetta, però Mettitolo di più Aspetta Perché se non ci vedo Perché Bello Bello, bello, bello Diciamo che Da come lo vedete È più È più È più Barbie È più Barbie Sì, esatto O quello del proprio Barbie Senti qua Diciamo che abbiamo comprato pochissime cose Sì, abbiamo comprato poche cose Poi abbiamo preso questo Questo è 969 Che ve lo posso far vedere Anche senza più Perché tanto è questo Io ora ne ho messo pochissimo Adosso È veramente poco Però è bello Giusto per vedere il colore Per vedere il colore basta Se l'avessi voluto metterne di più Sarebbe più accedo È tipo proprio arancione Allora No, aspetta che diciamo i prezzi Allora No, vabbè Ritiamo all'ultimo Dai E fai vedere le ultime cose Vabbè Questi sono degli orecchini Non c'è altro, vero? No No, esatto Questi sono degli orecchini Ah, però poi c'è la roba che abbiamo comprato dai cinesi Vai a prendere la roba? Sì, aspettate Adesso mia sorella va a prendere la roba Perché dai cinesi abbiamo comprato altre cose Io intanto vi faccio vedere Questi orecchini qua Che sono di mia mamma Oh, scusate Della Cleo Scusate Sono un po' stanca Vabbè Sono un po' annodati Però sono così Belli, belli, belli Questi pagati 4,99 Questo Allora Questo se mi ricordo bene 2,99 Mi pare 2,90 2,99 Della Wet n' White Questo qua della Essence Sempre 2 Mi sembra 2,80 Dottantanove Questo qua della Shaka 4,50 E questo qua 2 euro Mi pare 1,90 Una roba del genere Adesso mettiamo via questa roba qua Adesso facciamo vedere anche la nuova pezzolina Aspettate No, alla fine Io comunque mi trovo sempre bene Con la roba della Essence Però Cioè non ho trovato Roba Cioè non ho trovato Chissà Chissà Che Vabbè vado a stand a stand Vediamo la nuova pezzolina di Liam Ok facciamo vedere la nuova pezzolina del bimbo Arrivo Arancione L'ho scelto io Liam 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 Molto diciamo verde Liam amore Mi è un verde preferito Tra l'altro Sì vabbè adesso è agitato Perché siamo nel prato Questa è la sua nuova pettolina Pettolina verde Che ho voluto prendere già Vabbè dai Alla fine non gli sta male Hai visto che ha dei buoni gusti È molto bello Molto bello Presa dai cinesi Si va e pulita a portare alla mamma Poi allora Dai cinesi non abbiamo preso chissà cosa Però Tanto per farvi vedere Allora Abbiamo preso dei bicchierini da caffè Perché ci mancavano a casa Poi Tiena fuori te la roba Sì Quanto funziona di ciò Sì sì Lo sono distantito Vabbè comunque questi sono Fali vedere meglio Aspetta aprili Non sono male Perché sono leggeri Sono blu E poi sotto Se non le vedete Comunque finiscono così Sì normali Mettili dentro Che sennò si sporcano Visto che siamo in me Aspetta così Poi Vabbè dai Siamo un po' sedati Vabbè abbiamo comprato Una lampadina Una lampadina 4,50 euro Ancora il prezzo 4,20 euro Sì Vabbè Cazzola Cos'è sta roba Una specie di spazzola Allora Spazzola per Piatti Fala vedere Fala vedere È figa È rosa Cioè ma è fighissima È bellissima Meravigliosa Guardate Cioè per Sì le pagliette Però Le pagliette normali Ma in più c'è anche questo qua Per aiutarti a lavare bene A qua c'è uno swatch Di un rossetto Della Wet n' White Uguale a quello che ho preso io Soltanto che è più Sul rosso Figo però Ho visto che la Vabbè comunque Questo abbiamo pagato 1,50 euro Ho visto che la Wet n' White C'ha tanti Tanti bei rossetti Che tra l'altro Costano 2,90 euro Bellissimi Ok vi faccio vedere Allora queste Poi abbiamo comprato Nere Sì Le mettere ai piedi Sì per l'estate Perché quello Ho comprato mia mamma E le abbiamo pagate 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro E poi Te l'hai presa Questa è mia L'ultima cosa È mia Perché me la sono comprata Questo no Bianca Belle Questa è belle 1 euro Per fare ginnastica Per fare le spaccate Per fare le mani Esatto Così Per imparare bene A fare la spaccata Lo faccio Così Viene meglio Con tutto Vedete il pizzo Questi qua sono molto Che indami Sono belle Taglia unica Sono leggere Piccate per l'estate Sì Poi questo è un euro E niente Abbiamo fatto un giro Dai di essi Ma Stavo cercando Dei leggings Neri semplici Perché mi si bloccano tutti Ma evidentemente Non ce n'erano E la ragazza Mi fanno Vai che ci sono No non ce n'erano Ho cercato da tutte le parti Per un'ora Sì Poi c'erano blu Però Sì c'erano blu Tipo L XL A me Serve la M Quindi Direi che non andavano Molto bene Però non c'era neanche Un gran che Sinceramente Penso che dall'OVS Si siano un po' Alciati presti Sì Questo è vero Cioè tipo C'erano delle magliettine Che Secondo me Vallevano nemmeno 10 euro E Partivano Dei 14 euro Secondo me È un po' Tanto Sì L'esagio per come erano fatte Perché erano molto leggere Niente di che Avevano tipo Dei motivi Molto estivi Ma niente di che Però questa OVS qua di Luino Il pezzo sotto mi piace Perché c'è molte cose C'è molti stand Però La parte sopra Non mi è piaciuto Per niente C'è C'è poca roba E vabbè Mi sa che andrò A vedere A looping A Varese Se trovo qualcosa Anzi Mi sa che devo andare All'iper A vedere se trovo Un paio di leggings Perché cazzo C'è mi si rompono tutti Adesso c'ho Oh Alzati che ti faccio vedere Come sei vestita Alzati Sì Perché io vi ho fatto già vedere Nel vlog parte 1 Allora Allora Vabbè Delle ballerine normali Vecchissime C'è Allora Delle ballerine Vecchissime Fatte così Però vabbè Daltanto Siamo in un prato Molto Molto pratica Poi hai Dei pantaloni Dei leggings rosa Terra nuova Questi sono molto leggeri Poi una maglia Di tezenis Di tezenis Sì Carina Questa qua è molto carina Allora Io non ho giubbotto Quindi non posso far vedere niente La giacchetta Non ce l'ho Poi vabbè Le extension E basta Basta Quel rossetto carino Della Essence Sì vabbè Il rossetto Esatto E io sono vestita E l'ho detto prima Che tra l'altro Cavolo Ho sonno Ho sonno Veramente tanto E oltre sonno Mi scappa la pipì Un sacco Io anche Mi sto pisciando addosso Sì però qua In particolare E soprattutto Non ho più voglia Siamo stanche Non sappiamo cosa fare Adesso siamo qua nel prato Sì infatti perché Dovremmo stare Fino alle 10 Perché poi mangiamo Sì poi mi sa che mangiamo qua Lui Direttamente Lei prenderà anche Quando mangiamo Prenderò Prenderemo una pizza Una pizza Io mi sa che prenderò Una Napoli Te cosa che pizza Prendi Io prenderò una A gusti Tutta rossa Comunque Allora oggi abbiamo mangiato È vero Oggi cosa abbiamo Allora oggi mi ha mangiato Io ho preso una piedina Speck e brin Lei una speck e brin Mia madre una speck e brin Mia nonna Un toast E poi una coca Una coca Io ho preso una fanta Strano che io prendo l'elefante Perché di solito Questa roba non la bevo Io bevo soltanto acqua Però no A me piace Però beh Ho detto per cambiare Tanto non abbiamo mangiato Chissà cosa Scusate ma sto prendendo Tra l'altro la piedina Non era neanche un gran che Però vabbè Infatti ho un po' fame Mi sa che dopo Andremo Sì infatti con la piedina Era proprio Mi sa che dopo Andremo a prendere un caffè Per passare il tempo Perché che ora è? Cioè Sarà una cosa come Le cinque Le cinque e un quarto Cinque e dieci Però Ah che morte Tipo all'ora che devo dire Che sono quasi otto ore e mezza Che siamo qua Allora Stamattina Abbiamo camminato un sacco A farvi vedere Madonna Sei chiuso L'ha aperto Aspetta Ok Questo Non so se lo vedete No ma secondo me Non lo vedono quanto brilla In camera È tutto glitterato Bianco Tutto glitterato Aspetta che lo provo Tieni Dammi Allora Io ho già questo Ma no ma Si sentono tutti i bilantini No dammi aspetta Guardate Sguocciamelo nella mano Fai così Cioè no raga Stiamo scherzando L'ha pagato un euro Un euro e novanta Mi pare Guardate La bellezza di questo Poi c'è tutto il bianco Ma poi è fortissimo Cioè è bellissimo Voi non lo vedete bene Ma comunque è bellissimo Che è Della essence No è della white No è della white Eh è vero Menti è bellissimo White White Vi giuro che Proviamo negli occhi Aspetta che se non vedo Bello bello Uh no vabbè No raga ma stiamo scherzando C'era di tutti i colori No però Mettila in tutte e due Questo sta bene molto Anch'io l'avrei preso così chiaro Cioè è così bianco Anch'io A me piace molto truccare Ma cazzo ma è bellissimo A me piace molto truccare Ma poi risalta i miei occhi No vabbè Dammi che te lo metto Su tutto Dammi aspetta Sì è che io Non vedo molto bene Uh anche da mettere in bocca Chiudi Chiudi l'occhio Vediamo se Potete mettere dove volete Cioè è veramente bello No io credevo che fosse Una cosa più brutta Sinceramente Cioè raga guardate Voi non vedete Tieni di te Tieni Ma se voi vedete una cosa Fatti vedere da vicino Una cosa così meravigliosa Cioè è bellissimo Voi non riuscite a vederla bene Ma proprio risalta tutti gli occhi Cioè le fa sembrare anche più grandi Voi non vedete però Bellissimo Vero belli Bello bello Bellissimo Vi consiglio di comprarlo Vero ve lo consiglio anche io Allora è così se volete comprarlo Ecco Esatto questo della Wet n White Piccolino però Minchia ci sta È fighissimo È tipo un gel Sì si sa Sono proprio tutti i glitter No? Sì è tipo gel Meraviglioso Meraviglioso Fatto bene Perché io poi non volevo neanche comprare Però poi ho detto certo Veramente Quindi ci sta Benissimo E niente Adesso mi sa che andremo E vi faccio vedere il panorama Poi vabbè Facciamo vedere cosa mangiamo Tutto Il vlog non finisce qua Eh no Mi sa che finisce qua Perché fra un po' Non ho più memoria Giada O che facciamo una terza parte Non lo so Vediamo Sì Questa qua intanto è la seconda parte Questa qua intanto è la seconda parte Molto bene Però è tipo un affare Che si salta Ok vado Aspettatemi Quello Quello lì abbiamo Sì ho saltato E ne ho sentito così tanto La pancia Che sono morta Quindi Non ho saltato molto in alto Sì c'è nata ben due volte Su quei trampolini elastici A fare i salti Sì Che poi tra un po' Mi uccidevano la pancia Addirittura Va bene Noi andiamo E poi vi facciamo vedere La terza parte No se mai Vabbè non è sicuro Al massimo Rimaniamo a parte 1 E parte 2 E comunque Volevo fare un video Vediamo Decidiamo che video Possiamo fare Per domani Scrivetecelo sotto Allora stasera O domani Incaricherò i due di Di Luino Contate che questi due di Luino Li stiamo girando Uno sabato mattina E uno sabato pomeriggio Che è questo qua E ve li caricherò O stasera Che è sabato sera O domani Che è domenica E Io ho visto che carico Un video al giorno Domani In teoria Dovrei registrare Un altro video Ora vediamo Un bacione a tutti Noi andiamo a romperci le palle Ciao Ciao